Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Come da consuetudine ormai andiamo a fare un piccolo ricappino per quanto riguarda Rage of the Abyss Il nuovo core set che uscirò ovviamente il 10 ottobre E' una data un po' particolare nel senso perchè di solito se lo mettono a metà mese posso fare il video all'inizio del mese Dato che esce il 10 è complicato Quindi appena vedo che fanno il primo spoiler pubblico il video la mattina Quindi lo vedrete in un momento forse particolare Non lo so staremo a vedere Comunque recapino tattico perchè serve sempre Rage of the Abyss Prima di iniziare come sempre ragazzi mi invito a scrivermi il nostro nome per me ne hai sempre aggiornati Ricordo che l'iscrizione c'è tantissimo Io vi ringrazio Come sempre io lascio il link fantastico in descrizione per preordinare il set Codice sconto passando tramite il link affiliato aiutato al canale Io vi ringrazio sempre detto ciò Partiamo Allora c'è la money card fusione che Quello con 2005 Vabbè qua roba di 25 carte al cimitero Ok Non è una cosa di cui dobbiamo fare particolarmente attenzione Se la trovate ben venga Allora shark shark mazzo veramente molto interessante Considerate che non c'è giri di questo set C'è solo la zamina che è competitivo Ma qui secondo me Qui secondo me Può fare delle belle robe Cioè ci sono tanti archetmi che posso fare delle belle robe E sono molto convinto di questo Quindi occhio Allora shark è fortissimo Shark è fortissimo Già faceva delle top importanti qui prima nei supporti Con quelli nuovi che ci permettono di fare delle aggiunte molto forti Mi pare anche il magia trappone No questo Allora questo Se attivi una carta magia Si evoca specialmente Tranquillamente Ci lock in Xyz Aggiunge una carta Fish shark Dal deck alla mano E poi può essere considerato Un livello 3 Un livello 5 Per fare i rank Molto molto forte Ci sono anche i mostri Che possono essere considerati come due materiali Per mostri che ne vogliono tre O più Quindi stacchi quello Invece staccare due materiali Quindi è veramente molto forte Gli Xyz sono molto buoni Perché questo si gioca anche in Atlantideo Perché ti fa le aggiunte Questo è un negate in più Giocando anche Armored Che comunque Armored è una Diciamo è un surplus per il deck E diventa veramente molto molto forte Ha in modo comunque anche di fare il Kraken Per fare delle interruzioni importanti Secondo me shark è veramente interessante E c'è della bella roba C'è veramente della bella roba Poi hanno modo anche di equiparsi Comunque agli Xyz Pure con le carte magia E quindi ti consentono Di appunto fare con Armored È molto interessante il mazzo Perché comunque è un deck Xyz Che ti consente di fare delle cose Veramente buone Perché comunque si specialano tantissimo Si specialano tantissimo E hanno modo comunque di ripartire Quindi secondo me shark è uno dei pazzi più forti Che uscirà da qua dentro Fare particolarmente attenzione a questo deck E magari prendersi i supporti Perché veramente shark è un qualcosa che Secondo me può dire veramente la sua Hai modo di dare tante carte Hai modo di fare tante special Hai modo di fare tanti Xyz sul terreno Hai modo di comunque questo è un negate forte Io vi devo Poi vabbè puoi giocare anche addirittura Di Dweller appunto di Kraken Puoi fare un botto di roba Locca va bene Xyz magari in acqua Però voglio dire È un mazzo veramente interessantissimo Poi per quanto riguarda Xyz Abbiamo il drago bianco occhi blu Del nonno di Yu Che è comunque buono Perché ti fa prendere subito l'hank Bandit Ken Abbiamo i supporti Metal Morph di Bandit Ken Mazzo esclusivamente for fun Che in realtà Puoi mettere Metal Morph E il drago nero Che ti fa da negate Anche perché in sostanza Metal Morph Quando ti fa giocare il mostro E lo equipi Guadagno, attacco e difesa Non può essere targettato Dagli effetti delle magie E non può essere Distrutto dagli effetti Delle carte a magia Il che vi devo dire Può essere veramente Una cosa interessante Interessante Non può neanche Targettarlo con gli effetti Dei mostri Quindi diventa Dico Quasi indistruttibile Però voglio dire È interessante Soprattutto col Red Ice Black Full Metal Dragon Che fa da negate In sostanza Quindi è veramente Interessante Uno dice Vabbè per il drago nero Però in realtà potrebbe essere Anche generico È carino Come deck Non è nulla di che Però Mi devo dire La combo combo Con il Metal Morph E il drago nero Può essere sfruttata In tanti modi Battle Wasp È fortissimo Battle Wasp È fortissimo È un mix in set Che veramente Picchia tantissimo Addirittura Si possono mettere Anche delle carte Mi pare Che si giocava Anche con qualcosa Di Ragnarika O comunque Con i B Trooper Qualche cosa Dentro c'era Era un mix in set Veramente Niente male Lei ci consente Di specialarsi Scartando un insetto E soprattutto Di settare Lei Settare la carta magia Che non ha senso Perché Fino a due volte Per turno Se uno più Battle Wasp Vengono evocati Targettiamo Uno di essi E ne aggiungiamo Uno con Attacco inferiore Dal deck Alla mano Il problema È che non è Hard once per turn E possiamo rimbalzarla In mano Anche con Il sincro Questo qui Quindi In mano Iniziamo ad avere Delle robe Così Così tante carte Che abbiamo modo Di fare Il cavolo Che ci pare Certo È un mazzo Secondo me Fa come melodiosa Qua Perché molto Probabilmente Io non vedo Tante money card A eccezione Magari Di Delacrimosa Fismith Di qualcosa Zamina Di La sinful Spoils Continua Della impulse Al limite E ovviamente Della furos Non vedo Money card E un po' Trovo Perché sicuramente Non è un mazzo Da money card A modo comunque Di fare danni Anche indiretti A modo di Bittare fortissimo E quindi Ci consente Più modi Di chiuderla Però Vi devo dire Col fatto Che ha tante Tante ripartenze E a modo Certo Droll fa male Perché se facciamo Se ci fanno troll Non possiamo più Aggiungere le carte Per quanto riguarda La carta magia continua Diventa un problema Però Di base Secondo me Se confermerà Di essere un mazzo Non Troppo Esoso Sarà un deck Fortissimo Per quello che cosa Sarà un deck Fortissimo Quindi È da tenere D'occhio Anche Bottle Cioè È un set Che al momento Non vedo Carte troppo Costose Ma che ha dei Mazzi Interessantissimi Poi abbiamo Questo Non manco Mi ricordo Che roba Il performage Bulba Balancer Ma Di performage Pendolo Con il fatto Con il fatto Che ancora Non c'avevo I supporti Nuovi È come L'Arlur Queen Al momento Sono un po' Inutili Goblin Piker È un supporto Molto decente Quindi bene Prime Ordial È un Engine Può essere Un engine Molto forte Allora Può essere Usato Io l'ho visto Anche Malice Per prendere L'Eutron E sfruttare Il fatto Che Comunque È un mostro Normale L'ho visto Anche in Samurai Magari Metti Un mostro Normal E ci metti Le magie Per negare Evo Cartolo special Fare robe Interessanti E l'ho visto In Phantom Spiral Perché comunque Più che il mostro Le carte magie Trappola Sono veramente Forte C'è Le carte magie Si si gioca Più che altro Le carte magie La trappolina Si gioca Veramente Di meno E Questo fa anche Dunnigate Perché Lo riveliamo E Abbiamo Un Prime Ordial Lo possiamo fare Anche Tutto L'avversario Se viene evocato Tramite il tributo Degliamo L'effetto Di tutti i mostri Scoperti Dell'op Bandiamo Tutte le carte Che è la versione Controlla Con lo stesso Tipo E o Tributo Del mostro Normale Utilizzato Cioè Mandato al cimitero In sostanza Cioè Dei mostri Normali Al cimitero Il che potrebbe Essere utilissimo Magari In dei Mirror Match Quindi Magari Se tu ti vai a mettere Un Mostro normale Che ti fa Insomma Da target Può diventare Interessante Per Determinare Di mazzi Ovviamente Che ne so Magari Che giochi contro Uno snake eye Che c'hai Piro E fuoco E ci metti Una merdina Piro fuoco E via Questo Vabbè Allora Riveliamo Normal monster Paramo ordine Della mano Eccezione Di chiller Targhetti Una carta scoperta Sul terreno Se controlliamo Mostro normale Livello 5 Superiore Eccezione Non dobbiamo Rivelare la carta Indichichiamo L'effetto Con Non mi ricordo Se questo Lo evochiamo Pocchiamo 2000 Dichiariamo Il mostro Di nome normale Se non controlliamo Mostri Lo evochiamo Quindi è un modo Per avere Del Legate Degli Speciali In più Paramo ordine Interessante E' interessante Perché Lo possiamo Sfruttare In diversi modi Forse con Phantasmus Trovo Più spazio Ma se Abbiamo modo Anche con Dino Che giochi Comunque Quello 2000 Zero Che è Normal Secondo me Possiamo Fai delle Roba Interessanti Lagrimosa Non ve lo sto Neanche Dicendo Si butta Nell Engine Fismit Più che Lei Cioè Lei si Ma Link Al momento Non si Gioca Per niente Memento Una buona Giunta Così Come Due Centurion Quindi Questa Era Centurion Centurion Si Meglia Ok Sono Due Aggiunte Interessanti Chiudo Un po' Di Schede Qui Scusate Chiedo Venia Ok E poi Abbiamo Mermail Atlantiday Interessante Perché Ti danno Modo Di giocare Sempre Sfruttando Comunque Il mazzo Va a Scartare Tanta Roba Con Questo È In modo Di Riprenderti Un po' Di Cose Di Pescare Di Riciclare Di Evocare Di Evocare Facilmente Gli Xyz Di rank 7 Perché Comunque Si Modulano Tutti I livelli Quindi Possiamo Scartare Una gatta Al cimitero Il livello Tutti I mostri Acqua Diventa 7 E Ogni Qual Volta Comunque Mandiamo Roba Al cimitero Partono Gli Effetti Se Viene Viene Dal cimitero A tirare L'effetto Di Un mostro Acqua Evoche Specialmente Un atlantideon Mermedi Dal deck Insomma Ci consentono Sempre Di fare Delle cose Interessanti Carino Elixis Carino Anche Link Link Che Si Va Anche A Equipare A Quella Magia Che Comunque Equipaggiamento Che Va A Bloccare Gli Effetti Mi Pare La Carta Magia Insomma Che Veniva Attivata Comunque Faceva Negate Di Magia Quindi E' Interessante Eppure Questo Non si è Imposto Per nulla Nel Meta OCG Da una Svecchiata Ovviamente A Mermel Atlantean Però Non Penso Abbia L'impatto Di Come Avuto Fire King Diciamo E' Interessante Però Lo vedo Sotto A Shark Al momento Però Potrei Anche Sbagliare Tantissimo Quindi Ok Però Comunque Rimane Un mazzo Interessante Anche Qui Forse Non Vedo Ma Nei Card Oddio Probabilmente Questa La mettono Secret Però Non lo so Non lo so Perché Sono Belli Sono Carini Svecchiano Il mazzo Consentono Di fare Tanta Roba Comunque Consentono Al mazzo Di non Schiattare Sua Tota HT Però Non li vedo Ancora Così Preponderanti I Sette Samurai Sono Interessanti Perché Hanno Tanti Extender Hanno Tanti Modi Di Aggiungere Le Six Strike C'è Anche Quella Nuova Che Adesso Andiamo A Vedere Perché Non Mi Ricordo Che Cosa Fa Dov'è Eccola Qui Questo Non Mi Ricordo Sinceramente Scusate Un Attimo Allora Questa Stender Dalla Ma Ogni Effetto Una Volta Per Turno Se Vene Mandata Ad Al Cimiterre Aggiungiamo Una Magia Rapida 6 Samurai Dal Deck Alla Mano Se Un Sei Samurai Sincrono Utilizzato Per Le Viene Utilizzata Prevocazione Sincroni Un Syncros Samurai Quello Guadagna Seguenti Effetti I Rivelli D'ultimo Si Dell'op Vengono Ridotti Di Uno Che Potrebbe Essere Interessante Per Andare A Bloccare Comunque Determinati Exis Al Limite Lui Stessa Cosa Si Evoca Specialmente Se Viene Mondata Dal Cimitero Aggiungiamo La Six Strike Dal Deck Alla Mano E Poi Il Syncro Guarda Nel Seguenti Effetti Mostri Lappo Perdono 500 Il Che Potrebbe Essere Assurdo Anche Perché Effettivamente C'è Il Syncro Nuovo Che Rottissimo Avrò Anche Quell'altra Perché Comunque Quell'altra Forte Perché Lui C'ha Il Negate Che Non È Hard Once Per Turn Quindi Se Ne Cimitero Targettiamo Altrettanti Mostri Dell'oppo E Le Rimbalziamo In Mano Se Vene Andata Al Cimitero E Vogliamo Specialmente Mostro Bandito Six Samurai Che Serve Comunque Per Farci Ripartire Un Minimo Questa Quella Nuova Double Assault Specialiamo Un Sei Samurai Affiliamo Nei Seguenti Effetti Se Controlliamo Due Più Mostri Archetipo Tutti E Due In Seguenza Un Sei Samurai Con 2000 O Meno Di Attacco Dalla Meno Cimitero Cambiamo Mostro Loppo Con 2000 O Meno Di Attacco In Coperto In Difesa Durante Nine Phase Possiamo Bandire Questa Catta Dal Cimitero Targettare Un Samurai Aggiungerlo La Mano Ecco Portale Dei Sei Portale Dei Sei Se Fosse Stato Tre Avrebbe Fatto Il Panico Perché Effettivamente Con Portale Dei Sei Fa Il Panico Uno Per Se Parte E Fortissimo Quindi Ci sta Anche Che Viene Un Po Bloccato Così Però Fa Il Panico Veramente E Veramente Samurai Non lo Vedrei Nel Meta Però Un Mazzo Molto Interessante Piccola Svecchiata In Modo Di Deve De Negate Importanti Se Fai Comunque Combo Lui Combo Cn Quello Vecchio Quello Maggio Trappola Per turno Insomma Con Quell'altro Gli Dane Gavi Viene Fuori Una Borda Che Devo Dire Di Tutto Rispetto Ovviamente Quindi Non male Poi Abbiamo Lo Zomi Discorso A parte Perché Lui Lo Apriamo Subito Una Carta Veramente Forte Apriamo Anche Link Che Soprattutto Quelli Ci Può Fare Delle Riciclate Importanti Targhetti Mostri Velo Cinco Superi Zomi Il Se questa carta È una carta magia Continua Tragettiamo Un mostro Velo Cinco Superiore Zomi Controlliamo Distruggiamo Un mostro Dell'avversario Che controlla Con un attacco Uguale Inferiore E ti fa Un po' Di riciclo Anche Culelli Ci giochi Tanti Mostri Secondo me Non è per niente Male Anche perché Vuole due Zombie Generici Zombie Può giocare Anche Tranquillamente Le super Poli Gioca Mondo Zombie Che è una carta Che è Veramente Fastidiosa Ovvio Non sta a livello Di tot e mazzi Che sono qui Secondo me Potrebbe rivelarsi Un discretissimo Antimeta E poi abbiamo Il transient titan Of tartarus Se viene mandato Dal deck Al cimitero Mandi Un numero Di carte Che controlliamo Quanto è possibile Al cimitero Poi Vediamo Specialmente Questa carta E mandiamo Altrettante carte Dell'op Che controlla Al cimitero Nessun giocatore Può attivare Effetti di mostri In risposta All'attivazione Di questo effetto Può essere Fortissimo Per togliere L'aborto dell'oppo Quando magari La nostra Fa un po' Schifo Può essere Veramente interessante Anche col fatto Perché comunque Non lo puoi negare In sostanza Quindi Diventa una cosa Veramente assurda Se viene mandato Dal cimitero All'eccezione Del deck Possiamo Mandare una carta Alla mano Alla mano Alla cimitero Per mandare Una carta Alla terra Secondo me Zitto Zitto È una carta Molto interessante Per me Acquisisce Due carte Molto interessanti E Un pensino Ce lo farei Ce lo farei Anche Poi abbiamo Gli esamina Che sono comunque Mostri Eppure questi Che esamina Sarà il nuovo Meta Quindi diventa Complicatissimo Si gioca in sostanza Arsielago Aspettate Mi pare Si gioca Arsielago Perché questi due Si giocano Da base Dell'engine Questi due Questo ogni tanto Si è visto Ogni tanto No E poi Ovviamente Si gioca Il mono Per delay E il 3 Per Del sinful Spoils E questa qui Quindi Poi farò Ovviamente Adesso Il discorso Per quanto riguarda La fuga Ross E la impulse Si gioca Una sacred Asamina Riveliamo La asamina Fusione Dell'ex Deck Mandiamo La sinful Spoils La mano Terreno Al cimitero Per ogni 4 di livello E se mandi Per fare un livello 6 Basta che ne mandi Una Che secondo me Non ha senso Però va bene Se questa carta È nel cimitero Tragettiamo La asamina E controgliamo Oppure nel cimitero Mischiamo nel mazzo E aggiungiamo Questa carta La mano Secondo me Non ha molto senso Cioè Dovrebbe essere Tipo Devo raggiungere Il livello 6 No Quindi 2 1 E la sinful Spoils Deception Possiamo tributare Mostra la mano Terreno Aggiungiamo la asamina Al deck La mano Sono più mostri Vengono mandati Al cimitero Dell'oppo E continuiamo La asamina Possiamo far perdere 1.5 All'oppo E guadagniamo 1.5 Già potresti Chiudere tranquillamente Poi sono tutte Carte addabili Quindi è una roba Assurda Durante la inface Cosa è notato Il cimitero Perché ci sono Mandate Dalla zona Maggi e trappole Possiamo settarla Quindi con quella Di prima Mandi via lei La setti Ottimo E non ha senso Anche perché C'hai comunque Sia lago E questa qui Che li ho chiusi adesso Ogni danno Viene raddoppiato Quando l'avversario Attiva la carta Un effetto L'attributo E c'hai Il negate Se viene distrutto Aggiungi Sinful Spoils Trappola dal deck Alla mano Questa aggiunge Asamina Sinful Spoils Cioè il mazzo È veramente forte È il più forte Del meta Poi c'è qualche cartina Un po' così Qualche carta Per quanto riguarda Tempai Qualche carta Per quanto riguarda Questa era Ragnarai Che mi pare Che non era malaccio Comunque Nelle carte Un po' così Ci saranno I supporti Ovviamente Di Mimikul Ma andiamo a vedere Le carte Ovviamente Più forti Cioè più forti Più generiche In sostanza Perché abbiamo La Fugaros Che sarà la money card Del set Che verrà utilizzata Ampiamente È come quell'altra Solo che ogni volta L'avversario Che ha specialmente Uno più musica Deck o extra deck Peschi uno È più forte Perché comunque Non vuoi Vai a pescare sempre E poi vabbè Rimischio un numero di carte Come quell'altra Insomma In sostanza Peschi A go go E Tempai Ne risulterà Molto contento Ma ogni mazzo Ne risulterà contento Perché è veramente Una carta forte 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 Sarà Cosa era più di questa Ha avuto un impatto enorme Appena è uscita Subito Tre peri Di main Questa magari un po' meno Questa subito Giocata di main Fortissima E poi La domino Impulse Che non tutti i deck Se la possono permettere Però in realtà Veramente forte Se l'avversario controlla La carta Diventa un ht Quando una carta Ha un effetto Che si attiva Che include Di evocare specialmente Uno più mostri Negriamo quell'effetto Se abbiamo poi Un'altra parte del cimitero Spacchiamo la carta Se attiviamo questo effetto Dalla mano Non possiamo attivare Effetti di luce Terra E vento Per il resto del duello Ma comunque Si può mettere Già Nei Mazzi in fuoco Vabbè Mazzi oscurità E ha voglia A te Quanti devo mettere Quindi domino Simples È una carta Veramente forte Queste due Lei È la money card Del set Lei non so Se può essere Come quell'altra Quindi avere un costo Relativamente medio Però insomma Per me al momento Il valore del set Per quanto riguarda Il fattore monetario Magari non è Altissimo Nel senso Può essere Casamina Costerà un pochino Lacrima Costerà un pochino Forse qualcosa Di shark O forse addirittura Qualcosa di mermail Però al momento Non vedo carte Troppo esuse A livello di contenuto Del set Anche se enduron Comunque prende Qualche cosina Interessante A livello del set Io lo considero Molto buono Perché ci sono Dei deck Molto interessanti Molti supporti Buoni Quindi voglio dire Un set del genere C'è shark C'è il prime order Che comunque Si mixa Vabbè Memento Oppure lui Acquisisce bene Zombie acquisisce bene Memento acquisisce bene Abbiamo Sei samurai Atlantidei Abbiamo battle Wasp Abbiamo samurai Ok Insomma Tanti mazzi Tanti mazzi E tanti modi Per comunque Sfruttarli E secondo me Qui in tcg Abbiamo molto più modo Di sfruttarli Rispetto allo cg Perché ripeto Shark L'abbiamo visto Che mina Nonostante non abbia Supporti nuovi Battle wasp Potrebbe minare benissimo Quanto Quasi quanto Comunque Melodiosa Perché magari Non lo puoi Diciamo Mixare ad altri deck Come è stato fatto Con Melodiosa Facendolo fare Diventare un engine Menine engine Però Come deck Picchia Mixing set Anche con quei link Che ci sono Secondo me Diventa forte 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 Quindi Facciamo veramente Attenzione Se so Poi è carino Comunque sarà un mazzo Che Qualche cosina da giocare L'avremo Vi devo dire Sorvolo Per quanto riguarda Ovviamente Questa Perché Lasciamo perdere Poi c'è qualche altra Carta riempitiva Ma in sostanza Secondo me È un set Molto buono Magari non economicamente Però vi devo dire A livello di carte Ovviamente Non è per nulla male È molto molto interessante Poi ci sono queste due fusioni Questa era per il cyber drago Mi pare Che non era il massimo Stattata come una void Light or dark Se vengono La termine di fusione Targettiamo carte Nell'avversario Fino al numero In light and dark Utilizzati come materiali E le spacchi Che vi devo dire Si viene bandita Targettile L'allocuato Light or dark Che controlliamo Per il suo livello Diventa 8 Ma in realtà Sai pure con i pisti Magari Voglio fare qualche cosina E questo mi pare Era per il cyber drago Era utile anche per il cyber drago Però Era un pochino Un po' Complicato da sfruttare Però vi devo dire In sostanza Come set È veramente buono A me piace A me piace particolarmente tanto Non so se comprando un box Ci si rientra Non lo so Bisogna vedere un attimino Il ratio Delle Delle secret Però se comunque Vi dovete fare un mazzo È interessante Cioè Un mazzo Tra queste carte qui È interessante Comunque È molto molto interessante Perché Roba Buona Per fare dei deck Non dico Magari ultra competitivi Ma comunque Se la giocano C'è Assolutamente Detto questo Quindi Come set Direi promosso Detto questo Ragazzi Fatemi sapere voi Che state Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E Un saluto a tutti Sì Grazie.